Velocemente le posizioni, in prima fila, Gracciano, Collazzi, Poggiolo, Talosa, seconda fila, Sandonato, Voltaia, Le Coste, Cagnano. Gli spingitori cominciano già a chinarsi sulle botti, sanno che ormai il momento della partenza è prossimo. Attenzione, attendiamo lo sparo dello starter, Gianluca Fe, si alza la pistola, attenzione, parte! Il brevio delle botti, 2022, pochi istanti, partenza, partenza, molto veloce di Gracciano dalla posizione numero uno, parte bene anche Poggiolo, c'è un contatto tra Collazzi e Sandonato, restano indietro Collazzi e Sandonato. Coste chiude il gruppetto di testa, abbiamo visto partire bene Gracciano, abbiamo visto partire bene Poggiolo dalla posizione numero tre. Attenzione, Talosa va all'attacco di Gracciano, via di Gracciano nel corso, passaggio davanti a Sant'Agostino, uno dei punti più caldi del percorso, dove c'è maggiore pubblico Collazzi e in fondo la vincitrice del 2021, rimasta coinvolta in uno scontro in partenza con Sandonato. Ora si affronta una delle salite più difficili dell'intero percorso, riconosciamo Talosa sulla sede destra della sede stradale, che attacca in questo tratto via di Gracciano nel corso verso Piazza dell'Erbe, attacca la prima posizione di Gracciano, che era partito molto bene dalla casella di partenza. Eccoli numero uno, intanto anche immagini col drone, grande spettacolarità, Gracciano conserva la prima posizione e Cagnano è praticamente sulla stessa linea di Talosa, leggermente attardato, quindi la partenza, a parte lo scontro tra Sandonato e Collazzi, ha proposto un copione lineare, si temeva molto questa griglia di partenza. Ecco l'attacco di Talosa con Parissi e Rosi, Mosto e Passatore, all'esterno, passa Talosa in prima posizione, sorpassa Gracciano, dovrebbe essere anche Cagnano ad aver sorpassato Gracciano, quindi le posizioni dovrebbero essere intanto immagini di estrema suggestione d'altrone, che ci danno anche meglio il senso delle distanze. Le posizioni dovrebbero essere Talosa, Cagnano e Gracciano, dovrebbe aver perso anche la terza posizione, ricordiamo gli spingitori, ecco il passaggio davanti al caffè Poliziano, quindi Talosa in prima posizione con Mosto e Passatore, poi Cagnano, poi Voltaia, Voltaia, grande rimonta di Voltaia che è terza, vediamo transitare le coste, chiude il gruppo Poggiolo che ha avuto un ottimo avvio, ma evidentemente poi ha rallentato il ritmo, è stato sorpassato da Sandonato e Collazzi, che lo ricordiamo dopo pochi metri dalla partenza, sono entrate in collisione, hanno perso dei secondi preziosi. Siamo nel territorio della contrada di Voltaia, qui c'è ancora un tratto in salita, poi si affronterà un falso piano molto importante. Attenzione, Cagnano passa, Cagnano passa a condurre, Cagnano è passato con grandi le fontone, davanti a Talosa, Voltaia e terza. Le coste, quarta posizione, Quinti, Gracciano, sesto Collazzi, Cagnano è in testa nel territorio della propria contrada, ma Talosa una volta sorpassata è rimasta proprio alle costole della coppia di testa. Stiamo assistendo a un bellissimo bravio, veramente quello che ci auguravamo, tenuto conto dei valori in campo e anche un po' della griglia di partenza, ecco Sandonato alla curva del Gesù e poi è molto attardato Poggiolo, probabilmente un po' di crisi fisica per i due ragazzi del Poggiolo, Parissi e Ciambriello, Blatera e Lupin, che erano partiti veramente molto molto bene, erano usciti a scattare bene dalla prima fila. Eccoci nell'importante falso piano dell'opio, è il territorio di Cagnano, attendiamo che passi il mezzo che porta il reggitore e la telecamera mobile in primissimo piano, il rettore di Cagnano è ancora Cagnano in testa, è ancora Talosa, ha le costole dei primi due, ma attenzione, Voltaia, sta facendo forse la gara che non ti aspettavi, Voltaia con Banano e Trecciolino in terza posizione, poi nelle posizioni di rincalzo sfilano Gracciano, Collazzi, Sandonato e ancora più attardata Poggiolo. Diciamo che si è formato un terzetto di testa, qui siamo in via del Poliziano, di nuovo salita, ultimo tratto di Pietra Serena, prima di passare all'asfalto nella spianata di Santa Maria, prima del grande curvone che porta a Collazzi, altro tratto tecnico molto temuto, al pari d'altra parte di via del Poliziano, per la ristrettezza della sede stradale, per la presenza di tanti gradini. Lo sciacquo di Porta Farina, altro punto tecnico per il veloce, repentino cambio di tendenza, è stato superato, immagini dal drone in Santa Maria, quindi siamo già sull'asfalto, vedete come si è asciugato il fondo stradale, dopo la pioggia che è caduta tra le due e mezza e le tre e mezza, in maniera abbastanza abbondante, poi a tratti anche in seguito, ma non da impedire lo svolgimento della corsa. Intanto sentirete l'eco del campanone del Palazzo Comunale, che comincia a battere i suoi grevi rintocchi quando parte la corsa e smetterà solo all'arrivo, un modo per dire a tutti, attenzione, è in corso la corsa del bravio. Allora, al passaggio di Santa Maria, ancora Cagnano, al comando davanti a Talosa, davanti a Talosa e a Voltaia, ora Collazzi cerca di recuperare, attenzione, curva in discesa, questo tornante è molto insidioso, vediamo Voltaia come l'affronta, con Lorenzo Leonardi, Banana, che guida, sulla sinistra i vostri teleschermi, che guida la botte, e Trecciolino in posizione più rialzata, ecco il passaggio delle coste. Ancora immagini che giungono dal drone. Ormai la testa della corsa è in collazzi, ecco la staffetta della Polizia Municipale, staffetta motociclistica, seguita dal mezzo, potremmo dire un quad, ma è qualcosa di più, a quattro ruote, che porta la nostra telecamera mobile, e la postazione del reggitore. E' sempre Cagnano al comando, è sempre Cagnano, con Gragnoli che guida la botte, Gragnoli detto Grandine, e Cesaroni che si era rialzato, ora Voltaia si è data il cambio, in questo tratto era Severini che guidava la botte, dando la possibilità quindi a Leonardi di rialzarsi un po' e di riprendere un po' fiato, ovvero di respirare in una posizione più comoda. La percorrenza di Collazzi, vedete che disegna delle S molto ampie, anche l'altrimetria è variabile, qui siamo nel tratto in discesa, è passato Collazzi, è passato Gracciano, ecco la testa della Corsa, con Cagnano e Talosa, attenzione, è un bravio di grandissima incertezza, perché c'è ancora da fare l'arco del Polino, c'è ancora da fare Viaricci, intanto Voltaia forse ha perso un po' di terreno rispetto ai primi due, Coste si è installata in quarta posizione, si va verso l'arco del Paolino, con Cagnano in prima posizione, con la coppia formata da Jacopo Gragnoli, Grandine, 26 anni di Siena, universitario e collaboratore del Cus Siena, Samuele Cesaroni, Fontone, 32 anni di Treguanda, Mastro Birraio, e la coppia di testa, poi appunto abbiamo visto Voltaie e Coste, attenzione, un'immagine di Viaricci, importantissima, con Talosa che cerca spazio nel territorio della propria contrada, Cagnano chiude la porta, una scena da Formula 1, ma anzi perché portare questi esempi, una scena da Bravio con Talosa che è passata in Viaricci, Talosa è passata in Viaricci, quindi era forse la mossa che Rossi e Parissi si erano riservati per questo finale, non si sono mai fatti distanziare, vediamo che cosa succederà in questi ultimi cento metri, c'è un entusiasmo indescrivibile, a Montepulciano sono tutti travolti dalla spettacolarità di questa corsa, una corsa che passa diretta agli annali, qualunque sia il suo risultato, vediamo Talosa in Piazza Grande, davanti al portone del Palazzo Comunale, la rampa che porta al Sagrato del Duomo, e Talosa, Talosa si avvia a vincere, attenzione, ancora pochi metri, Talosa, giudice d'arrivo, Emiliano Migliorucci, Talosa vince il Bravio delle Botti 2022 e Cagnano, dopo aver condotto più di metà corsa in prima posizione, giunge alle spalle di Talosa, vediamo le posizioni alle spalle dei primi, Coste, Coste c'era grande fiducia intorno a questa coppia, fiducia ben riposta perché Coste stavolta non sbaglia a strada come l'anno scorso e arriva in terza posizione, forse c'è qualche spingitore che ha bisogno un po' di riprendersi, non vi fate impressionare dal telo, è solo per il rispetto della privacy, vediamo gli altri arrivi, ecco, Gracciano, Gracciano con Peparini e Maggi, il professore e il santo, il sorpasso di San Donato, proprio negli ultimi metri, ora c'è un contatto ma del tutto involontario, quindi poi chiude San Donato, San Donato con i due giovanissimi, Tonini e Bazzoni, chiude anche Collazzi, che non riesce a ripetere la prova dello scorso anno, non possiamo dimenticare i problemi che hanno afflitto Giacomo Valentini, che è giunto dunque alla prova non in perfette condizioni, poi c'è stato il problema della partenza, il contatto proprio con San Donato, hanno perso secondi preziosi. Allora, immaginare su Piazza Grande, vedete che la pioggia non ha scoraggiato la maggior parte del pubblico, non abbiamo il pienone di altre situazioni, questa immagine di Montepulciano è veramente straordinaria, bellissima, abbiamo notato nel pubblico una maggioranza di contradaioli, quindi la fine della pioggia ha portato fuori dalle proprie abitazioni gli abitanti di Montepulciano, i contradaioli, e così in piazza sono apparsi tanti fazzoletti. Allora, ha vinto Talosa, dunque la favorita si è imposta nel Bravio 2022, quattro vittorie finora per Talosa, l'ultima, il tempo è 8.36, ci viene comunicato il tempo, 8.36, è stato quindi anche un Bravio veloce, relativamente veloce, quattro vittorie per Talosa, ultima nel 2009 con Torello e Cascio, era la terza consecutiva, Lapo Parissi, Mosto, 29 anni, di Montepulciano, agronomo Luca Rosi, passatore, 32 anni, di Montepulciano, api coltore, quindi due persone che nella propria vita hanno a che fare con la natura. Intanto arriva anche Poggiolo, hanno onorato il proprio impegno, sia pure in ritardo, Poggiolo conclude, quindi in ottava posizione.